Siamo a via Trieste, qui i residenti sono infuriati perché la spazzatura non viene prelevata, un problema che affligge i residenti già da tempo. Che cosa sta succedendo? Come da ordinanza la spazzatura è stata messa vicino ai civici, dopo consiglio di varie persone abbiamo messo vicino ai civici, però purtroppo la spazzatura in questa strada non viene ritirata, per cui i residenti di questa strada sono costretti, obbligati a andarla a depositare in un posto, quando più vicino, dove il cambio della spazzatura possa passare e ritirarla, cioè all'imbocco di via Traversa Campania. Noi questa cosa la facciamo da anni, veramente da decenni, con l'ordinanza nuova è stato detto, è stato disposto il fatto di metterla vicino ai civici. Lei per fare questo ha preso anche una multa? Un giorno, è stato il 4 aprile, giustamente un vigile urbano mi ha fermato, mi ha chiesto i documenti e mi ha fatto un verbale di 100 euro, ma non perché la spazzatura era fatta male o depositata nel giorno sbagliato, è perché era messa nel posto, sbagliato, giustissimo. Ma se è la spazzatura non la vengono a ritirare, io la spazzatura dove me la devo tenere? In casa, portando problemi e danni e fastidi alle persone che abitano nei piani sottostanti. Non penso che sia una cosa corretta. Lei ha fatto presente questo problema all'amministrazione comunale? Allora, le persone addette a questo problema sono venute addirittura in questa via, dove hanno comunicato con il resto dei condomini, delle persone che abitano, che hanno fatto promesse che non sono state assolutamente mantenute. Perché le promesse non sono state mantenute? Ma io penso che le promesse non sono state mantenute, immagino, per mancanza di personale, di mancanza di disposizioni, di incomprensioni, ma queste sono cose che a noi non interessano, perché noi paghiamo tutte le tasse e abbiamo il diritto di ricevere tutti i servizi che aspettano alle persone che abitano a Via De Nicola, le persone che abitano a Via Roma, quelle che abitano sulla Nazionale. Siamo uguali tutti quanti. Io sono andato anche dal comandante Visone, che gentilmente mi ha accorto più di una volta, gli ho spiegato il problema. Mi aveva promesso che il 2 di maggio avrebbe entrata la nuova ditta, che avrebbe risolto tutto. Io ho rimesso un'altra volta la spazzatura, mettendomi anche contro i condomini, ma la spazzatura per tre giorni non è stata ritirata. Non sappiamo più a chi ci dobbiamo rivolgere. Ora la spazzatura, se andiamo a buttarla, la prendiamo una multa. Se ce la teniamo sotto al palazzo, ci teniamo topi, immondini e tutto. Noi mi dovete dire cosa dobbiamo fare. Il comandante mi ha detto, assolutamente, mi ha messo sotto al civico e segnalare questa situazione. Eh ma per quanto tempo mi devo mettere a lavorare col comune? Ma un altro problema è rappresentato dalle auto in sosta. Io penso che nessuno a casa sua vorrebbe una macchina parcheggiata davanti a casa, o struendo il passaggio di una persona invalida, o di una persona col passeggino, o di una persona malata. Penso che nessuno, no? Farebbe una cosa del genere. Io voglio capire perché avanti al mio palazzo lo fanno sempre. Ci vogliono i controlli? I controlli assolutamente, ma basterebbe una telecamera, una telecamera è stata 28 euro. Una piccola telecamera, l'intracciamo tutti, non è un problema. E puniamo chi sbaglia, ma dobbiamo pure dare merito a chi fa le cose per bene. Non è che caccia a padre un po' di Cristo come a me che non sta faticando e gli mettiamo una multa di 100 euro, soltanto perché è stato detto da qualcuno, per il momento deposita la lì, e poi dopo risolviamo il problema. Il problema non è stato mai risolto. E Visone mi aveva promesso, il comandante Visone, mi aveva promesso che avrebbe fatto degli stalli per terra dove le persone incivili potevano capire dove poter parcheggiare la macchina. Ma questo manco è avvenuto, perché purtroppo è un cane che si morde la coda. Stiamo sempre a dire le stesse cose, ma viviamo sempre nella stessa situazione. Non è cambiato nulla. Sono anche io un condomino di Via Trieste numero 3, come il mio amico Ciro. Praticamente io non posso far altro che appoggiare la denuncia che ha fatto Ciro. Qui viviamo nell'assoluto abbandono. Marciapiedi pieni di erbacce. Macchine sostate in modo selvaggio dove vanno vanno, non può uscire da un palazzo. Per la spazzatura, per quanto riguarda la spazzatura, abbiamo avuto un po' di fumo negli occhi da qualcuno che apparteneva all'amministrazione, che ha fatto vedere che risolveva il problema. Ma il problema l'abbiamo dovuto risolvere noi. Alle 3 di notte abbiamo dovuto prendere la spazzatura da terra e buttarla, perché era impossibile uscire dal palazzo. Qua non abbiamo visto niente di cambiato. Anzi, più tempo passa, più l'abbandono è proprio totale, proprio in tutto, proprio dallo sporco delle strade. A noi se non viene un ragazzo di colore a spazzare ogni tanto, qui la spazzatura ci arriva sotto ai palazzi. Ma voi siete cittadini come gli altri che pagano le tasse? Pagliamo le tasse e le paghiamo anche profumatamente, perché Torre del Greco è uno di quei comuni che paga la spazzatura più alta di quasi tutta la Campania. Io voglio dire una cosa, questa amministrazione non serve proprio, perché non serve dai minimi servizi ad arrivare a più alti servizi. Io ho lottato per questa città, ho lottato per le cose proprio essenziali. Adesso mi viene anche la rabbia che devo lottare per una strada non spazzata, per una strada non pulita, ma stiamo scherzando. Le votazioni quando ci saranno? Mi raccomando, andate a votare, correte tutti, perché non è solo via Trieste che è sporca, è tutta Torre del Greco che è sporca, fa pietà. Torre del Greco è una delle più belle città della Campania, dei paesi vesuviani. è ridotta a uno schifo, cioè io non mi riconosco, non riconosco più la mia città, ma noi alle prossime votazioni, ma chi dobbiamo votare? Noi ci dobbiamo votare noi stessi, noi dobbiamo essere responsabili del nostro territorio, dobbiamo dire no alla macchina parcheggiata a mare, ma non possiamo farlo dieci persone, dobbiamo farlo tutti.